Acqua Enna comunica che mercoledì 7 agosto dalle ore 8 e fino alle ore 17 di giovedì 8 agosto sarà sospesa l'erogazione idrica per un intervento di manutenzione programmata nelle seguenti vie del comune di Enna. Via Santa Grippina, via Canturra, via Canalicchio, via Roma, dall'intersezione con piazza Garibaldi sino all'intersezione con piazza Matteotti, via Volturo e via Rependite.